Ciao a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi vi presento un accessorio per il nostro Galaxy Nexus raramente facciamo video review di accessori ma questo in particolare ci è piaciuto per la sua ergonomia e per la qualità dei materiali parliamo di una cover, un guscio più che una cover per Galaxy Nexus, un guscio veramente fatto bene della Puro marca storica di accessori per cellulari, andiamo ad analizzarlo, vi annuncio già che la parte interna è sagomata in gomma, in rilievo molto bello, abbiamo tutti i fori per le varie uscite tranne per i pulsanti che hanno questo tipo di finti pulsanti soft in plastica quello che ci è piaciuto particolarmente di questa cover è appunto il grip che riesce a dare la precisione con cui è fatta, non abbiamo scivolamenti, è veramente solida, un piacere tenerla in mano purtroppo a qualità si appoggia anche un prezzo piuttosto elevato, adesso non mi ricordo bene sembra o 29 euro o 39 euro, non vorrei sbagliarmi per questo leggete l'articolo, la videoprova scritta altra fondamentale cosa di questa cover è il fatto di avere due parti, ovvero una parte liscia e una parte con una plastica diversa questa plastica diventa ancora ulteriormente più rifinita nella parte posteriore dove abbiamo questa trama veramente fatta bene che dire, ve la volevamo mostrare, visto che c'eravamo, ci è appena arrivata da poco e ci è veramente piaciuta un saluto ad Alessandro per Nexus Lab